Giuliano Sili, direttore generale del San Giovanni Valdarno, ma anche grande conoscitore di calcio, per cui ti chiedo subito un commento su questo campionato di Serie D che ha vissuto le prime sei giornate. Diciamo che è un campionato dove ha visto una partenza a razzo del San Sepolchio, perché sei vittorie non si fanno per caso. La fortuna, come ho avuto modo di dire anche in passato, è che questa è una società che punta molto sui giovani ed è la loro fortuna. E' vero che anche ieri nella partita che ha vinto fuori a Bastia aveva quasi sei undicesimi tutti provenienti su questa fascia di età. Una delusione per quanto riguarda il campionato dell'Arezzo, perché sicuramente la partenza non è di quelle che fanno bene sperare, però credo che il tempo per migliorare l'Arezzo l'ha tutto, è evidente che deve fare qualche registrazione in questo organico, perché secondo me, non vedendola dal vivo ma vedendola attraverso i filmati televisivi, la vedo carente in qualche reparto. Poi vedo le squadre tipo Trestina che si sta ripetendo come anno scorso, la Viterbese che io la reputo come una squadra pronta per lo sprint finale sta venendo fuori. Il resto sono tutte squadre che secondo me hanno la possibilità di rimanere in questo campionato con tranquillità, anche se una delusione me la sta dando il Castellarigone per la sua potenzialità di società. Però bisogna anche considerare il piccolo centro che sicuramente non è che ha delle grosse ambizioni per poter salire nel calcio professionistico. Ecco, il tuo San Giovanni Valdarni invece è eccellenza toscana, secondo posto, quattro vittorie consecutive, costruito per vincere il campionato e ora la situazione sta andando nel verso auspicato. Diciamo che è il programma che la società si era posto all'inizio, cercare di fare i risultati nel migliore dei modi e vedere di ottenere la vittoria finale, anche perché è una piazza che non ci può più permettere di stare in un campionato inferiore. inferiore, di conseguenza è stato un postato in organico composto da elementi che reputo interessanti, vecchi, come età anche, maturi, perché sono giocatori che la maggior parte fanno categorie superiore, ed è un paio di giovani interessanti, tipo questo Benucci, che l'abbiamo preso dal Bibiana nel campionato agli AV Elite, che è un classe 95 che sta veramente facendo cose cresce. Si sta ripetendo anche il portiere Berti, classe 95, che è il fidelizzato dove siamo obbligati a farlo giocare. Noi abbiamo un solo risultato, che è quello di vincerlo, e mi auguro di poter centrare l'obiettivo perché per i costi che la società ha sostenuto non c'è altro obiettivo.